Madrid Spagna, 11 marzo, la presse, l'Atletico Madrid rialza la testa dopo il Co con il Barcellona. I Colconeros si impongono 3-0 sul Celta Vigo al Vanda Metropolitano nell'incontro valido per la 28, a giornata di Liga. Apre le marcature Griezmann al 44esimo minuto, nella ripresa raddoppia Vitolo, 56 minuti, e Correa al 63esimo minuto fissa i conti sul definitivo 3-0. I madrileni salgono a 64 punti e consolidano il secondo posto, andando a 7 sul Real. La capolista Barca è distante 8 punti. La capolista Barca è distante 8 punti.